Scusate, se soccanino un problema, eh? un po' è lì ma non so se non mi chiamerà dritto Tristo, tristo. Vai via! Ok, dopo lì è un altro punto Vai proprio indietro È un bel indietro, la terza del ruoto È un bel indietro Questa non tocca Vai non tocca male Piano che si Piano, aspetta Ma si, proprio in tutto dentro Io metterei un pelo in qua Almeno stai comodato Vai indietro Dietro Con la ruota di 4 ne vanno Sì, basta Sì, basta No, così è così Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai dietro Vai dietro Vai dietro Vai dietro Vai dietro Chi ti può più a sinistra No, secondo me è meglio a destra Però devi andare Ma forse è meglio a sinistra Però devi andare Però devi andare Però devi andare Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai o meno ma non si vede Poi, ma non si vede In là In là Sterza in là Però qua è la foto Lari è così Sterza in là In là, in là, in là Tutto in là tutto in là dai di più ristorzare in qua ristorzare in qua in qua qua va un po' indietro e senza tutto uguale ah il masso vai dritto vai vai dietro vai dietro vai dietro vai dietro è vero ah, fai così, vai un po' a destra vai a destra vai un po' a destra vai tutto quello che puoi a destra vai, vai, vai provo a salire no adesso vai indietro vai indietro vai indietro dritto adesso c'è un po' più di slancio passa di qua non lì passa di qua no, non tocchi col Suzuki fai dritto vai però piano ah no ah no mi piace un pochino riquisto scusa fritta le ruote guarda guarda che spada ve lo dico in piano è andata non è dritta se le ruote girate adesso come c'è una dritta e le girate girate hai trovato anche il fango dov'è sto fango si inconda la pozza vedendo vai indietro ora dritto le ruote che buono non è un po' più ma è un po' più che buono piano 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 vai ora facciamo un po' più dai 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 un po' indietro dai 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 l'as o no fai andare fra l'andar dai dai vai 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 Sì No, no, no va diviene le ruote dritte te lo saldo questo differenziale però io di là devo andare vai fallo fallo non esce lo faccio il prossimo giro a me non esce